Anni fa, quando vivevo a Gerusalemme come corrispondente di Repubblica, trovai una citazione straordinaria, questa Tutti gli uomini sognano, ma non allo stesso modo. Coloro che sognano di notte scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini, ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi, perché può darsi che recitino il loro sogno a occhi aperti per attuarlo. Questa frase misteriosa, poetica, è nel libro I sette pilastri della saggezza. L'autobiografia di Thomas Edward Lawrence, più noto come Lawrence d'Arabia, il condottiero inglese che tra il 1916 e il 1918 guidò la rivolta araba contro l'impero ottomano. Un personaggio romanzesco, reso celebre da un grande film del 1962, Lawrence d'Arabia, interpretato da Peter O'Toole. Ma non è questo il libro che vi suggerisco. Chi era veramente questo enigmatico intellettuale guerriero? Beh, un altro bel libro, un romanzo uscito da poco in Italia, ce lo rivela. Si intitola Stella del mattino. L'autore è Wuming IV, pseudonimo di Federico Guglielmi, uno degli scrittori bolognesi del collettivo che ha firmato libri culto come Q e 54. Stavolta Guglielmi scrive da solo e parte da un fatto vero. Nel 1920, a Oxford, dove Lawrence è tornato dopo la guerra in Medio Oriente, vivono anche Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, Lewis, l'autore di Narnia, e il poeta Robert Graves. Il resto, cioè il modo in cui si incrociano le vite di questi uomini, Guglielmi se lo immagina, ma è una fantasia verosimile, attraverso la quale si capiscono tante cose. Chi era Lawrence? Cos'è l'eroismo? E anche perché l'Occidente sbaglia sempre sui calcoli in Medio Oriente, nel 1918 come nel 2008. È un romanzo che ci fa sognare a occhi aperti, come gli uomini pericolosi di cui parlava Lawrence d'Arabia.